Crollo verticale per il Partito Democratico di Ellis Klan, come registrato dall'ultimo sondaggio condotto da Yowutrend per Schittd24 I DEM perdono lo 0,6% in due settimane, scendendo così al 19%. Un risultato non positivo, dal momento che in molti a sinistra hanno fissato il 20% come soglia minima alle elezioni europee per evitare scossoni interni A quanto pare, però, ora anche questa percentuale appare a rischio se continua questo trend negativo Totalmente diversa la situazione in Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni continua a crescere, stando all'ultimo sondaggio, sale dello 0,6% arrivando così al 30,01% e superando così la soglia psicologica del 30% I due dati su PDFD incidono parecchio sui consensi delle coalizioni Se quella di destra cresce dell'1,5% arrivando fino al 47,7%, quella di sinistra invece passa dal 25,4% al 24,7% Restando nell'area di centrodestra, vanno bene anche la Lega di Matteo Salvini, che sale dello 0,3% attestandosi al 9,6%, e Forza Italia, che riguadagna terreno fino al 6,1% più 0,6% Noi moderati stabile 1,9% Per quanto riguarda il centro-sinistra, alla crisi d'EM si aggiunge la perdita di 1,0,2% per più Europa, ora al 2,3% Leggera crescita, invece, per Alleanza Verdi-Sinistra, che dal 3,3% passa al 3,4% più 0,1% Tutti in negativo gli altri partiti, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte e Italia Viva di Matteo Renzi calano dello 0,1%, attestandosi rispettivamente al 13,6% e al 2,4% Mezzo punto percentuale in meno per azione di Carlo Calenda al 3,9% e per l'Italia 1,8% Mezzo per cento